Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Marra e questo è MeraMera Ragazzi ci risiamo, avevo voglia di fare un video un po' più lungo del solito Ora che sto registrando vi dico la verità, non ho idea di quanto questo video sarà lungo Questo video in particolare secondo me va ad aggiungersi un po' al riassunto completo di One Piece E il riassunto delle mini avventure, non tanto per la lunghezza perché sicuramente verrà un po' più lungo del solito Ma anche per il tema perché queste non sono teorie ma sono dei pezzi di lore vera e propria Oggi infatti andremo insieme ad analizzare e elencare tutti i frutti del diavolo conosciuti Attenzione però, non è una classifica del frutto più forte, magari alcuni di voi si aspettano queste cose qua Secondo me non ha senso fare delle classifiche di forza tra frutti che sono di diverso tipo Quindi non si può paragonare bene un Paramisha con uno Zoan e un Roja A volte sì ma non è questo il caso, qua andiamo semplicemente ad elencarli e a spiegare le loro funzionalità In più per rendere il video un po' più comodo l'ho diviso in alcune parti La prima parte è l'intro, quella che state sentendo in questo momento La seconda parte è dedicata ai frutti Paramisha La terza parte è dedicata ai Roja La quarta parte è agli Zoan E poi l'ultima parte sarà dedicata ai frutti sconosciuti Frutti che siamo sicuri esistano Dato che abbiamo visto degli utilizzatori di frutti Però non sappiamo le loro funzioni esatte Slash il loro nome Prima di cominciare credo che sia anche doveroso dirvi che non sono presenti frutti non canonici Quindi quelli che abbiamo visto solo ed esclusivamente nei film o nei filler Esempio il frutto di Douglas Ballet non c'è Perché in questo canale cerco sempre di parlare in modo canonico di One Piece Quindi non mi sembrava giusto metterli all'interno di questo video E in più ovviamente non ho inserito i frutti Smile Solo perché sono dei frutti artificiali E anche perché sono letteralmente tantissimi e potenzialmente infiniti Quindi insomma i frutti Smile sono una cosa a parte Prima di cominciare ancora l'ultima cosa che vi devo ricordare È di iscrivervi al canale ragazzi e mettere un bel mi piace Perché questi contenuti un po' più lunghi comunque portano molto lavoro E sono ripagati tantissimo da queste due piccole azioni che potete fare con un singolo clic Ovvero l'iscriversi e il mettere mi piace Detto questo ragazzi direi che possiamo cominciare a parlare e a spiegare tutti i frutti del diavolo di One Piece Partiamo con i frutti del diavolo di tipo Paramisha I frutti Paramisha sono una categoria di frutti del diavolo Sono la categoria più comune e anche la più generica Difatti gli utilizzatori di un frutto Paramisha dopo aver consumato il frutto Ricevono un potere particolare che attenzione a differenza degli Zoan e dei frutti Roger Questi poteri non sono classificabili perché sono tutti diversi Sono una categoria un po' più particolare Oda semplicemente per dei frutti che non sono classificabili Ha fatto una categoria apposta per quanto mi riguarda sono i frutti Paramisha Quindi le abilità più generiche Passiamo ad analizzare i frutti Paramisha Il primo Paramisha che vediamo è il Gomu Gomu no Mi Forse o forse no Difatti io direi di saltare questo frutto E passare in realtà al vero primo frutto Paramisha che vediamo Che è il Barabara no Mi Un frutto che ci viene presentato attraverso un personaggio molto importante Chiamato Buggy Clown Un personaggio che conoscete tutti E che viene presentato come praticamente l'opposto di quello che è il Gomu Gomu no Mi All'inizio Quando ancora pensavamo fosse il Gomu Gomu no Mi Fino a qualche mese fa in realtà Questo frutto permette all'utilizzatore di dividere il proprio corpo come vuole E diciamo molto utile soprattutto contro i colpi fatti con le spade o coi coltelli Abbiamo anche il Sube Sube no Mi Frutto mangiato da Alvida per la seconda volta in cui la vediamo E' un frutto che rende la pelle dell'utilizzatore estremamente liscia e scivolosa A quanto pare per Alvida anche ha avuto un altro effetto ovvero l'ha fatta dimagrire Anche se non è che si approfondita molto questa cosa Abbiamo il Gomu Gomu no Mi O frutto Bomb Bomb Che permette all'utilizzatore di creare delle esplosioni attraverso il proprio corpo E non solo il proprio corpo ma anche da quello che il proprio corpo produce Per esempio questo frutto lo vediamo utilizzato appunto da Mr.Five E lo utilizza non esattamente col suo corpo ma con delle cose che produce dal suo naso Ovvero le caccole E' uno dei frutti più interessanti secondo me E' anche strano averlo visto così presto nella storia E soprattutto da un personaggio che fa quasi una comparsa Perché non è che vediamo così spesso Mr.Five Però è un personaggio molto molto figo Il Kiro Kiro no Mi invece è il frutto mangiato dalla collega di Mr.Five Ovvero Miss Valentine Questo frutto permette di aumentare e di diminuire il proprio peso a piacimento Abbiamo visto un altro frutto molto simile se non uguale a questo Poi adressa l'osa ne parleremo dopo Semplicemente questa qua è la versione meno potente Ma ripeto dell'altro frutto che ha praticamente le stesse funzionalità Ne parleremo dopo Anana No Mi ovvero il frutto Fior Fior Mangiato da Nico Robin Questo è uno dei miei frutti preferiti E permette all'utilizzatore di duplicare parti del proprio corpo E a quanto pare anche creare per esempio dei cloni E' un frutto iper versatile Forse uno dei frutti più versatili in assoluto Ed è stato mangiato da Nico Robin come tutti sapete In più la nostra Nico Robin sempre grazie a questo frutto Intricciando le varie parti del corpo che crea tutte in una volta Riesce a creare delle strutture sempre più complesse Abbiamo l'esempio che abbiamo visto Onigashima Del Demonio Flower La sua ultimate che ha sbloccato appunto Onigashima Doru Doru No Mi Il Doru Doru No Mi permette all'utilizzatore di creare E controllare della cera di candela E' stato mangiato da Mr. Free E anche questo è un frutto abbastanza interessante Sembra quasi un Roger E' uno dei primi Paramisha che sembra un Roger Ma attenzione non lo è ovviamente E anche questo è un frutto abbastanza versatile Perché come vediamo anche a Impel Down Può essere utilizzato per creare delle armi Da far utilizzare all'utilizzatore Anche se in realtà all'interno di Impel Down Le vediamo utilizzate da Luffy Mane Mane No Mi Il frutto che permette all'utilizzatore di trasformarsi Fisicamente e per aspetto In qualissiasi persona l'utilizzatore abbia toccato Questo è il primo frutto che analizziamo Che è stato mangiato da due persone diverse Nel corso della storia La prima è stata Kurozumi Igurashi Una dei membri della famiglia Kurozumi Con lei che ha permesso a Orochi Di diventare lo Shogun di Wano Una probabile compagna di Kaido all'interno di Rox Un personaggio molto misterioso E poi anche da Mr. Chu Personaggio bene amato Prima di continuare io vi devo dire che io Adoro vedere all'interno di One Piece I frutti che vengono utilizzati da persone diverse E soprattutto questo escamotage Ovvero di far vedere attraverso un flashback Un frutto che già conosciamo e anche bene A me fa impazzire Supa Supa No Mi Questo frutto permette all'utilizzatore Di trasformare alcune parti del suo corpo In lame E' un frutto ragazzi secondo me devastante Frutto appartenuto a Mr. One Che tra l'altro io non vedo l'ora di rivedere Perché Crocodile e Mr. One Appunto potremmo rivederli magari nella battaglia finale Anche solo per una comparsa E questo frutto con l'utilizzo dell'Aki Che molto probabilmente Mr. One non aveva Quando eravamo ad Alabasta Potrebbe essere veramente un frutto devastante Non vedo l'ora di rivederlo veramente Frutto toge toge no mi Questo frutto è stato mangiato da Miss Double Finger La collega di Mr. One Ed è un frutto che permette all'utilizzatore Di far crescere delle spine molto molto appuntite Anche questo frutto secondo me potrebbe essere interessante da vedere Con l'utilizzo dell'Aki Ori Ori no mi Il frutto della gabbia E permette all'utilizzatore di creare delle gabbie letteralmente E delle cose per intrappolare l'avversario fatte di ferro Frutto mangiato da Ina Frutto perfetto per un Marines Difatti Ina è diventata Vice Ammiraglio Anche questo è un frutto molto interessante e particolare E bisognerebbe vedere se utilizzato con l'Aki Cosa potrebbe scatenare Però per quanto mi riguarda frutto devastante Bane Bane no mi Questo frutto permette all'utilizzatore di trasformare parte del suo corpo In delle molle Ed è il frutto che tutti conoscete Che è stato mangiato da Bellami Questo frutto utilizzato come lo utilizza Bellami Potrebbe essere anche simile ad alcune funzioni Del Gomu Gomu no mi Almeno il primo Gomu Gomu no mi Come tutti l'abbiamo conosciuto Bellami lo utilizza anche in un modo abbastanza intelligente Caricando la sua velocità Rimbalzando qua e là per il punto in cui si trova Per poi attaccare l'avversario Ito ito no mi Questo è un frutto veramente Veramente devastante Frutto mangiato da Doflamingo E già qui avete capito tutti La potenza di questo frutto E permette all'utilizzatore di creare E controllare delle stringhe Letta così sembra molto easy Ma in realtà il nostro Doflamingo utilizza questo potere In 3000 modi Rendendolo un frutto incredibilmente versatile Grazie alle stringhe riesce a controllare le persone come fossero marionette Riesce a ricucire i propri organi interni Sempre grazie alle stringhe Riesce a salvarsi dalla decapitazione Veramente un frutto Iper versatile Noronoro no mi Questo è uno dei frutti più sottovalutati Secondo me della storia Del frutto mangiato da Foxy Questo frutto permette all'utilizzatore di Lanciare delle specie di fotoni Che trasmettono un effetto molto particolare A qualsiasi cosa tocchino Difatti qualsiasi cosa toccata da questo raggio Entrerà in uno stato di slow motion per 30 secondi Questo frutto ragazzi Se fosse stato utilizzato da un personaggio Un po' più sveglio Un po' più forte di Foxy Sarebbe stato devastante agli occhi della community Doa Doa no mi Questo frutto è stato mangiato da Blueno E' il primo frutto della CP9 che vediamo E' permettere all'utilizzatore di creare E aprire delle porte Ovunque Frutto molto molto figo Molto utile per Teletrasportarsi qua e là Ma anche durante il combattimento Confonde tantissimo l'avversario Aua Aua no mi Frutto che permette all'utilizzatore di creare del sapone Delle bolle di sapone Questo frutto tra l'altro ha una particolarità Ovvero quella di poter pulire Qualsiasi cosa Inclusa la forza Frutto che abbiamo visto Nelle mani e nell'arsenale Diciamo così Di califa Altro membro della CP9 Berry Berry no mi Un altro frutto che appartiene Alla marina Stavolta non alla CP9 Ed è un frutto che è stato mangiato Da Very good Un personaggio della marina Che abbiamo visto veramente poco E che io personalmente Ricordo perché viene visto In una mini avventura E viene devastato dalla CP9 Questo frutto permette all'utilizzatore Di dividere il proprio corpo In molte sfere Una particolarità è che comunque Very good Sembra essere composto da sfere Sempre Quindi probabilmente Questo frutto cambia In modo permanente Il corpo dell'utilizzatore Sabi sabi no mi Allora questo è un altro Di quei frutti Che sono devastanti Che abbiamo visto secondo me Troppo presto Questo frutto è stato mangiato Da shu Ed è il frutto Che permette all'utilizzatore Di arrugginire Qualsiasi cosa Tocchi Incluse le persone Questo frutto L'abbiamo visto Utilizzato appunto Da shu Per veramente Pochissimissimo tempo Perché è un personaggio Che appare Solo una volta E anche brevemente E lo vediamo Distruggere una delle spade Di zoro E anche Quasi sconfiggere zoro Dato che Gli ha toccato il braccio Questo personaggio Poi verrà messo K.O. Da uso E non verrà Mai più visto Comunque questo è veramente Un frutto devastante Shari shari Nomi Questo frutto Permette all'utilizzatore Di trasformare Alcune delle sue parti Del corpo In delle ruote Questo frutto È stato mangiato Da sharinguru È uno di questi personaggi Della marina Che abbiamo visto A Ennis Lobby Una volta E poi non vediamo più E ha una particolarità Questo personaggio È l'unico Utilizzatore Di frutto del diavolo Che vediamo appunto Utilizzare il suo frutto All'interno del manga Ma non all'interno Dell'anime Difatti nell'anime Questo personaggio Attacca Frenkie Con la sua spada Mentre nel manga Effettivamente Vediamo il suo frutto All'opera Qua finalmente Passiamo a Thriller Bark E vediamo il frutto Oro Oro Nomi Un altro frutto Incredibilmente devastante Frutto mangiato da Perona E permette all'utilizzatore Di controllare E creare Dei piccoli fantasmini Che hanno diverse Abilità Questi fantasmini Infatti possono Creare Delle sensazioni Di disperazione Nelle persone Oppure addirittura Esplodere Quindi Forza bruta Vera e propria Tra l'altro L'utilizzatore Può creare Un proprio fantasmino Che può Allontanarsi dal corpo A proprio piacimento Un po' come Il frutto Di Brook After Timeskip E ora andiamo A parlare Dello Yomi Yomi Ovvero Il frutto Di Brook Questo frutto Permette All'anima Dell'utilizzatore Di ritornare Nel mondo Dei vivi Dopo che L'utilizzatore E' morto Anche qui Come ho detto prima L'utilizzatore Può far Uscire l'anima Dal proprio corpo A proprio piacimento E' stato mangiato Da Brook E presenta anche Anche altre features Sempre riguardanti L'anima Cosa che abbiamo scoperto Poi Nel nuovo mondo Ed è un frutto Secondo me Molto semplice Però Figo E sono felice Che sia stato dato A uno dei miei Mugiwara Preferiti Kaji 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 Non mi Un altro frutto Veramente Veramente Devastante Frutto devastante Dato però A un personaggio Molto pigro Perché una delle caratteristiche Principali Di Gekomoria È proprio La sua Pigrizia Questo è il frutto Delle ombre E permette all'utilizzatore Di creare E controllare Alcune Ombre L'utilizzatore Infatti Può manipolare La propria ombra Ma anche Assorbire le ombre Degli altri Diventando Molto più grande E più forte Cosa che vediamo Appunto A thriller Barche Nell'atto finale Le ombre Tra l'altro Quando vengono Rubate Possono essere Anche inserite All'interno Di cadaveri Rianimandoli Questo è il modo Infatti In cui Gekomoria Riesce a creare La sua Orda Di zombie Suke Suke Nomi Frutto Utilizzato Da Absalom E poi Dopo la sua morte Mangiato Da Shiryu Il secondo frutto Che vediamo Che è stato Mangiato Da due persone Diverse Tra l'altro Ed è il frutto Che molto Semplicemente Permette Di diventare Invisibile E non solo A quanto pare Anche tutto ciò Che tocca L'utilizzatore Può diventare Invisibile Come lui Frutto Interessante Devastante Soprattutto Pre-time skip Ora con L'acchi dell'osservazione Non so effettivamente Quanto funzioni Questo frutto Potrebbe essere Che grazie al risveglio Magari Riesca anche a Eludere L'acchi dell'osservazione Però queste sono solo Teorie Questo video Non è solo teorie Semplicemente Quello che sappiamo Di questo frutto E che permette All'utilizzatore Di diventare Invisibile Anche questo frutto Cambia Irreversibilmente Il fisico Dell'utilizzatore Difatti il frutto Appartenuto a Kuma E dà all'utilizzatore Dei Pau Pets In Sulle mani Non so come chiamarle In italiano Sono quelle cose Che hanno le zampe Per esempio Degli animali E queste cose Hanno diverse funzionalità È un frutto Incredibilmente Incredibilmente Versatile Difatti grazie a queste cose Kuma Può Teletrasportare La gente Può creare Delle onde D'aria Fortissime Può difendersi Dagli attacchi È un frutto Incredibilmente Incredibilmente Versatile E Veramente Veramente Forte Difatti Kuma Inizialmente Ci viene presentato Come un personaggio Praticamente Imbattibile Jiki Jiki no Mi Di questo frutto Tra l'altro Abbiamo il nome Da pochissimo È stato dato Durante la saga Di Onigashima Attraverso Una Una Vivre Cardone SBS Ora non mi ricordo Comunque È il frutto Di Eustace Kid E permette L'utilizzatore Di manipolare E anche Creare La forza Magnetica Questo frutto Viene utilizzato Tantissimo Da Kid Per creare Degli arti Di supporto Un po' più grandi Da utilizzare Come armi Con il risveglio Abbiamo visto Che Kid Può creare Anche dei Raggi laser Anche grazie Ai campi magnetici Dei poli magnetici Sulle superfici E sulle persone Frutto Veramente Veramente Figo Uno dei miei preferiti Ope Ope Non mi Attenzione Qua forse stiamo parlando Del frutto Paramicia Più forte In assoluto È stato definito Il frutto Del diavolo Finale Dalla marina Ed è il frutto Di Trafalgar Di Water Low Questo frutto Permette all'utilizzatore Di creare Una grandissima Sfera Chiamata Room All'interno Della quale L'utilizzatore Può fare Letteralmente Qualsiasi Cosa Può muovere Le cose Può Dividere Le cose Le può tagliare A metà Anche Gli esseri Viventi Potere Trasportarsi Può fare Qualsiasi Cosa Anche questo Tra l'altro È un frutto Molto Versatile Perché Oltre Alla stanza Permette All'utilizzatore Di utilizzare Determinate Mosse È un frutto Veramente Devastante È anche Un'altra Particolarità A quanto pare Con il sacrificio Dell'utilizzatore Può donare La vita Eterna A qualcuno Questa cosa Però Non è stata Indagata Più di tanto Perché ho paura La vedremo Primo poi All'interno Del manga Shiro Shiro No Mi Questo frutto È il frutto Di capone Beige E permette All'utilizzatore Di diventare Una fortezza Vivente Difatti Beige All'interno Del suo corpo Ha Letteralmente Delle stanze Di un castello In più Tramite la sua Forma finale Beige Si trasforma in Letteralmente Un castello Enorme Che può muoversi E ha dei cannoni Frutto Interessantissimo Devastante Per il trasporto E anche Veramente Veramente Figo Per me Anche a livello Di design Difatti È stato dato A una supernova Tra l'altro Molto importante Nella saga Di Halkic Island Warawara No Mi Questo è il frutto Che appartiene A Basil Hawkins È un frutto Particolare Anche questo Abbastanza Versatile Perché Non ha Solo Una funzione Difatti Basil Hawkins Può Trasformarsi In Una specie Di Mostro Di Paia Può Creare Un mostro Di Paia Enorme Ma la sua Particolarità Più famosa È sicuramente Quella Di creare Delle Bambole Voodoo Che Permettono All'utilizzatore Di Trasferire Il danno Subito Nelle persone A cui È stata Collegata La bambola In particolare Vediamo Quanto è Devastante Questa Tecnica Soprattutto Onigashima Quando Basil Hawkins Collega Le sue Bambole Voodoo A Kid Viene Però Sconfitto Grazie A nostra Tagemma Da Killer Lo sappiamo Tutti Comunque Veramente Un potere Fastidiosissimo Otto Autonomi Il frutto Di Scratchman Apu Questo frutto Permette Di trasformare Parti del Corpo Dell'utilizzatore In strumenti Musicali Che sono Però Delle vere E proprie Armi Difatti Questo frutto Crea I danni Attraverso Il suono Frutto Che Sembra Molto Forte Inizialmente Ma In realtà Può Essere Counterato Semplicemente Tappandosi Le orecchie Trasformando Scratchman Apu Letteralmente In un personaggio Inutile E Molto più Devole Di quanto Si pensa Mero Mero Nomi Il frutto Di Boa E Inco Che Questo è un frutto Particolare E un frutto Che permette Le persone Che sentono Dell'attrazione Fisica Per l'utilizzatore In pietre Inoltre Questo frutto Grazie all'utilizzo Di alcuni Cuori Può essere Utilizzato Anche in maniera Offensiva Dato comunque A un personaggio Come Boa Enco Che è letteralmente Considerata La donna Più bella Del mondo Diventa Devastante Doku Doku Nomi Un altro Dei miei frutti Paramisha Preferiti Questo è un altro Dei frutti Paramisha Che Sembra Tantissimo Ma veramente Veramente Tanto Un Roja Invece no È un Paramisha Permette All'utilizzatore Di creare E manipolare Il veleno Ed è il frutto Di Magellan Frutto dato Tra l'altro Al personaggio Più forte Di tutta Impel Down Quindi per farvi Capire quanto è forte E tra l'altro Impel Down È forse L'unica saga In cui Il villain Principale Non viene sconfitto E neanche ci provano Più di tanto Ma semplicemente Scappano Talmente è forte Questo potere Soprattutto per Luffy Pre-Timeskip Oru Oru No Mi Questo frutto Permette L'utilizzatore Di creare Dei ormoni Speciali Che possono Cambiare Il corpo Delle persone È anche questo Molto Molto Versatile Difatti serve Sia per cambiare Il sesso Delle persone Che per Aggiungere Per esempio Dell'adrenalina È il frutto Di Emporio Ivankov È anche questo Un frutto Molto particolare Secondo me Intelligente E figo Il Chokin Chokinomi È un frutto Che permette L'utilizzatore Di trasformare Alcune parti Del suo corpo In forbici Questo frutto È stato mangiato Da Inazuma E grazie a queste forbici Può tagliare Qualsiasi cosa Difatti Anche i muri Se toccate Da queste forbici Hanno le proprietà Della carta È un frutto Anche qui Molto versatile Che non serve Tantissimo Nel combattimento Se non Per esempio In casi specifici Per esempio Inazuma Utizza questo frutto Per raggiungere Ace Durante la saga Di Marineford Gura gura Nomi Ragazzi Insieme all'opeope È sicuramente Il frutto più forte Dei paramisha È del frutto Mangiato Prima Da Edward Newgate Ovvero barba bianca E poi rubato In qualche modo Da Marshall Di Teach Questo è il frutto Dei terremoti Considerato Il più forte A livello Offensivo Dei paramisha Veramente Potrei descriverlo In molti modi Ma basta vedere La saga di Marineford Per vedere Quanto questo frutto Sia Devastante Kira kira Nomi Un altro frutto Molto figo Che abbiamo visto Poco secondo me Nonostante questo frutto Sia veramente Veramente figo Ed è il frutto Mangiato Da Daimon Jozu Questo frutto Permette all'utilizzatore Di trasformare Parte del suo corpo In diamante Su questo frutto Girano tantissime teorie Non ne parliamo In questo video Perché già Ne abbiamo parlato In altri Comunque Frutto che è anche Bello Esteticamente Da vedere Poche poche Nomi Questo frutto Appartiene a Blamenco Uno dei membri Della ciurma Di barba bianca E crea Sull'utilizzatore Una specie di tasca Dove L'utilizzatore Può lasciare Qualsiasi Tipo Di oggetto È un po' Il frutto Di Doraemon A me piace Descriverlo così E Oda tra l'altro Ha detto che questo frutto Sarebbe l'ideale Per Usop Woshu 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 no Mi Frutto mangiato Da Tsuru Una delle leggende Della marina Ormai quasi In pensione Comunque In attività Ma molto Molto vecchia E permettere L'utilizzatore Di letteralmente Lavare E piegare Le persone Come se fossero Del bucato È un frutto Devastante Perché Spiegata così Non Non sembra Ma in realtà Questo frutto Pulisce anche Il cuore Delle persone Quindi se per esempio Vediamo un criminale E viene sottoposto Alle cure Diciamo così Di questo frutto Diventerà Una brava persona Fua Fua No Mi Questo frutto È stato mangiato Da Shiki Ora mi direte Ma Marra Questo frutto Compare solo Ed esclusivamente Nel film Strong World Tu hai detto che I frutti non canonici Non li avresti messi Peccato Che Shiki Di fatto È un personaggio Esistente E in più Il capitolo 0 Ci dà la conferma Della sua canonicità La sua canonicità In realtà È sottolineata Anche quando Si parla Della ciurma Dei rox E quando Vediamo Kurozumi I gurashi Utilizzare il suo potere Comunque sia È un frutto canonico E permette All'utilizzatore Di far Volare E lievitare Tutte le cose Non viventi Che l'utilizzatore Riesce a Toccare Ma Tomaso Non mi Questo frutto Permette all'utilizzatore Di Segnare una persona Toccandola E far sì Che ogni arma Che viene lanciata Dall'utilizzatore Vada a colpire Direttamente E a inseguire Letteralmente La persona Toccata Frutto mangiato Da Van Der Decken Nono Questo frutto Permette all'utilizzatore Di segnare solo due persone Una per mano Ed è un frutto figo Anche qui Secondo me È un frutto sottovalutato Utilizzato da un personaggio Un po' babbo Un po' scemo Che però sarebbe Utilissimo Per Una persona Che magari Riesce anche A ricoprire di Aki Le proprie armi Fukufuku No Mi Questo è un frutto Mangiato da Kinemon Attenzione Il nostro Kinemon Ha un frutto E non tutti lo sanno Notato questa cosa Perché lo utilizza Veramente 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 Poco Ed è un frutto Che permette All'utilizzatore Di creare dei vestiti Viene visto Soprattutto A Onigashima All'inizio Quando Kinemon Grazie delle foglie Riesce a creare Dei vestiti Per l'alleanza Vestiti che vanno A riprendere un po' Gli abiti Della Della ciurma Di Kaido Obi Obi No Mi Un frutto Invincibile Letteralmente Questo frutto Permette all'utilizzatore Di trasformare Le persone In dei servi In dei servi Giocattolo Allo stesso tempo Questo frutto Cancella La memoria Delle vittime Nella mente Degli altri Quindi se qualcuno Viene Toccato Dall'utilizzatore Nel caso di One Piece L'utilizzatore E' sempre stato Sugar Allora Tutti i suoi cari Perderanno Anche Il ricordo Che hanno Di questa persona In più Permette Di fermare L'indecchiamento Dell'utilizzatore Difatti Sugar E' rimasto Di quell'età Buki Buki No Mi Questo è un altro frutto Secondo me Molto molto Figo Permette all'utilizzatore Di trasformare Il suo corpo E alcune parti Del suo corpo In armi E del frutto Di Baby Five Anche qui Questo frutto Se utilizzato Da un personaggio Che sa utilizzare L'Aki Dell'armatura Comunque Molto forte Potrebbe essere Incredibilmente Fortissimo E anche Molto 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 Versatile Guru Guru Non mi Da non confondere Con il Gura Gura E' il frutto Che permette All'utilizzatore Di trasformare Alcune parti Del suo corpo In Delle eliche Anche questo E' un frutto Che Era di uno Dei membri Da Donkey Shot Family Ovvero Buffalo Frutto Che da quello Che abbiamo visto Serve quasi solo Per spostarsi A livello Offensivo Non è che sia Così devastante Beh certo Se tu Trasformi In elica Una parte Del tuo corpo Effettivamente Può dire Cari danni Ma noi L'abbiamo visto Quasi solo Exclusivamente Per il trasporto Beta Beta No Mi Questo frutto Permette all'utilizzatore Di creare E controllare Muco Ed è il frutto Mangiato Da Treble Frutto Abbastanza Disgustoso Dato a un personaggio Disgustoso Ma questo è Zushi Zushi No Mi Frutto Devastante Letteralmente Devastante E' il frutto Che permette Di manipolare La gravità Ed è il frutto Mangiato Da Isho Un ammiraglio Quindi Diciamo che Frutto migliore Non poteva esserci Tra l'altro Questo frutto E' anche abbastanza Versatile Permette di scagliare Meteoriti E la gravità Può essere Utilizzata In vari modi Difatti Isho Riesce anche A fluttuare Comunque Frutto Devastante Per ora Isho Non l'abbiamo mai Visto in difficoltà Con nessuno L'abbiamo visto poco Certo Ma Mai in difficoltà Con nessuno Questo per farci capire Quanto sia forte Questo frutto Bari Bari No Mi Un altro frutto Molto molto figo E' un altro frutto Che abbiamo visto Due volte all'interno Della storia Anche qui Sempre all'interno Del flashback Di Oden L'abbiamo visto Per la prima volta Grazie a Bartolomeo E poi l'abbiamo visto Utilizzato da un certo Kurozumi Semimaru Un altro personaggio Alleato di Orochi Durante il flashback Di Oden Questo frutto Permette all'utilizzatore Di creare delle barriere A quanto pare Indistruttibili Detta così Può essere considerato Un frutto Solo ed esclusivamente Difensivo In realtà Il nostro Bartolomeo Utilizza questo frutto Anche per combattere All'interno Del corrida Colosseum Ricoprendo La sua mano Con appunto Una barriera Tirando un pugno Devastante Nui Nui No Mi Altro frutto Mangiato da un membro Della flotta Mugiwara In questo caso E' Leo Difatti permette Semplicemente All'utilizzatore Di cucire Delle cose Insieme Molto molto semplice Frutto particolare Anche Frutto delicato Dato a un personaggio Che è delicato Ovvero Leo Giro Giro No Mi Questo frutto Permette all'utilizzatore Di vedere Attraverso Gli oggetti solidi E oltre Una determinata Distanza In più Questo frutto Può leggere La mente E la memoria Delle persone Mangiato da Viola Frutto utilizzato Veramente Veramente poco Anche perché Comunque Viola Non è un personaggio Che vediamo Così tanto Ato Ato No Mi Frutto molto particolare Che permette All'utilizzatore Di trasformare Le persone E gli oggetti In arte Astratta Frutto utilizzato Da Giolla Personaggio che viene Sconfitto Abbastanza facilmente Poi da Brook Giacche Giacche No Mi Un frutto Veramente figo Un po' Dimenticato Ma che a me piace Tantissimo Ed è il frutto Che permette All'utilizzatore Di trasformare Il proprio corpo In una Giacca L'utilizzatore Tra l'altro Potrà controllare Il corpo Della persona Che indosserà Appunto La Giacca Questo frutto È stato mangiato Da Kelly Funk Uno dei personaggi Che vediamo All'interno Del Colosseo E secondo me Devastante Un po' Di Un frutto Che fa una comparsa In realtà Non è così Importante Però secondo me Veramente figo Pamu Pamu No Mi Frutto Che permette All'utilizzatore Di espandere Il proprio corpo E anche Gli oggetti Inorganici Che vengono Toccati Frutto Mangiato Da Gladius Anche questo Visto A Dressrosa Sui sui No Mi Frutto Che permette All'utilizzatore Di nuotare Liberamente Attraverso Il terreno Duro Come se fosse Acqua Frutto mangiato Dal bene amato Senior Pink Tra l'altro Una piccola trivia Su questo frutto Oda Ha detto Che se Sanji Dovesse avere Un frutto del diavolo Sarebbe stato proprio Questo Perché è letteralmente L'unico frutto In assoluto Che permette Di nuotare Nonostante Sia un frutto Del diavolo Ton Ton No Mi Questo è il frutto Di cui parlavo All'inizio Di questo video Ovvero È la versione Più potente Diciamo così Del Kilo Kilo No Mi Questo frutto Infatti Permette all'utilizzatore Di aumentare Il proprio Peso Mangiato Da McVise Uno dei Uno dei membri Della ciurma Di Donkey Shot E Do Flamingo È semplicemente La versione Molto più forte Del Kilo Kilo Difatti Al posto del Kilo Abbiamo la tonnellata Ira Ira No Mi Questo frutto Permette al corpo Dell'utilizzatore E anche a qualsiasi cosa L'utilizzatore Tocchi Di Modificare le proprie Proprietà Rendendolo più Flessibile Più magro Eccetera E' un frutto E' un frutto Iperversatile Ed è stato Mangiato Da Diamante Ishi Ishi No Mi Un altro frutto Devastante E questo Questo è un frutto Devastante Che effettivamente Vediamo utilizzato Da un personaggio Devastante Difatti È il frutto Di Pika E Pika Crea Un casino Effettivamente A Drestrosa Viene poi sconfitto Però Da Zoro E permette All'utilizzatore Di Assimilare E controllare La pietra Utilizzato Da Pika Un personaggio Così forte Permette Di creare Una specie Di golem Gigante Grande Come tutta L'isola Di Drestrosa Per combattere Frutto Ripeto Devastante Fude Fude No Mi Permette All'utilizzatore Di creare Inchiostro E di manifestare E manipolare Qualsiasi cosa L'utilizzatore Disegnerà Utilizzando Un pennello Frutto Mangiato Da Kurozumi Kanjuro Questo è un frutto Particolare Secondo me Molto molto Sottovalutato Perché L'abbiamo visto Per lo più Utilizzato Dal Kanjuro Pre Rivelazione Difatti Il Kanjuro Pre Rivelazione Utilizzava Questo frutto In modo Basilare Utilizzandolo Con la mano Con cui Teoricamente Non era Abituato A Disegnare Quindi Questo ci va Anche a spiegare Che Quando L'utilizzatore Disegna Male Un qualcosa Allora Quel qualcosa Sarà anche Debole E stupido Più una cosa Disegnata bene Più sarà Potente E più Sarà Spaventosa Inoltre Dopo la Rivelazione Vediamo anche Che Kanjuro Riesce a Per esempio Creare Delle frecce Di Inchiostro Disegnando Delle nuvole Questo è un potere Molto molto figo Iper versatile E forse il frutto Più versatile In assoluto Dei Paramisha Perché Se uno sa Disegnare Può fare Letteralmente Qualsiasi cosa È molto Molto Sottovalutato Naji Naji Nomi Frutto Appartenuto A Il caro Don Kishot Rosinante Questo frutto Permette All'utilizzatore Di Annullare Il suono Attorno a sé Frutto Interessante Che è uno dei Classici frutti Che ha Solo Una funzione E serve Anche solo Per Per esempio Creare una stanza E parlare Con una persona Senza farsi sentire Da Nessuno Chiyu Chiyu Nomi Frutto che permette All'utilizzatore Di curare Le ferite Delle persone Frutto che vediamo Pochissimo Ed è un frutto Mangiato da Mancheri Soru Soru Nomi Un frutto Devastante Un frutto Dell'anima Permette All'utilizzatore Di estrarre L'anima Delle persone E Usarle Per Portare Gli oggetti In vita Questo frutto È anche molto Versatile Perché come Abbiamo visto Onigashima Se l'utilizzatore Decide di mangiare Una parte Della sua Anima Può Potenziarsi Di molto Questo frutto È stato mangiato All'inizio Da madre Caramel Fino alla sua morte Dove è stato mangiato Da Charlotte Linlin Ovvero L'imperatrice Big Mom Frutto che abbiamo visto In tutte le salse Linlin Utilizza questo frutto Spesso Per creare i suoi Omis E come ho detto Anche per potenziarsi Ma questa cosa L'abbiamo vista Soltanto A Onigashima Mira Mira No Mi Il frutto che permette A Charlotte Brulee Di creare E di entrare All'interno Del Mirror World È un mondo Un universo A cui si può accedere Solo attraverso Gli specchi E permette All'utilizzatore Anche di creare Degli specchi Che possono Riflettere Gli attacchi Peropero Peropero No Mi Questo frutto Permette All'utilizzatore Di creare E manipolare Delle caramelle Frutto mangiato Da Perospero Bisubisunomi Frutto che permette All'utilizzatore Di creare Biscotti Frutto mangiato Da cracker Un frutto Molto figo Che tra l'altro L'utilizzatore In questo caso L'utilizza anche In modo molto intelligente Creando in continuazione Dei servi Fatti di biscotto Abbiamo il Bata Bata No Mi Frutto che permette Di controllare E creare Burro Mangiato da Gallette Buku Buku No Mi Frutto che permette Di manipolare I libri E usarli anche Come delle trappole Frutto mangiato Da Mondor Questo frutto Tra l'altro Lo vediamo Utilizzato tantissimo Da Big Mom Per selezionare Le razze In giro per il mondo Lo vediamo A Hawkeye Island Ma anche Nella mini avventura Corrente Curi Curi No Mi Permette all'utilizzatore Di creare E controllare Crema Mangiato da Opera Un altro Dei figli di Big Mom Shibo Shibo No Mi Permette all'utilizzatore Di estrarre Il liquido Dalle persone E dagli oggetti E trasferire Il liquido Nel proprio corpo Rendendo appunto L'utilizzatore Più grande E forte Utilizzato da Smoothie Memo Memo No Mi Permette all'utilizzatore E in questo caso L'utilizzatrice Di manipolare La mente Delle persone Frutto utilizzato Da Padding Anche questo è un frutto Secondo me Molto molto sottovalutato Mochi Mochi No Mi Allora Qua ragazzi In realtà Questo frutto Dovrebbe appartenere A una categoria A sé Perché viene classificato Come un Paramisha Speciale Questo frutto È il frutto Di Katakuri Permette all'utilizzatore Di creare Controllare E anche trasformare Il proprio corpo In Mochi Con questa descrizione Sembra quasi Che io stia descrivendo Un Roja Invece un Paramisha Per questo però Viene chiamato Un Paramisha Speciale Perché In realtà Questo Questa cosa In cui si trasforma Katakuri Ovvero il Mochi Non è un elemento Esistente Ma è un qualcosa Di artificiale Comunque Questo è Veramente un frutto Che si può utilizzare In 3000 modi Fortissimo Utilizzato da Un personaggio Fortissimo Se ci pensiamo Poi il Mochi Anche un qualcosa Di ridicolo Ma viene reso Speciale Dall'utilizzatore In questo caso Katakuri Oya Oya No Mi Questo frutto Permette all'utilizzatore Di richiamare Un genio Dal proprio corpo Questo frutto Appartiene a Charlotte Dai Fuku Netsu Netsu No Mi Permette all'utilizzatore Di emanare Del calore Anche tantissimo calore Ed è il frutto Che appartiene A Oven Uno dei frutti Più forti Secondo me Della ciurma Di Big Mom Cucu Cucu No Mi Questo frutto Permette all'utilizzatore Di trasformare Gli oggetti In cibo Molto molto Semplicemente Ed è il frutto Che appartiene A Streusen Questo frutto È molto sottovalutato Viene sottolineato Anche da Capone Perché può trasformare Qualsiasi cosa In cibo È un po' come se fosse Il frutto di Sugar Però molto più debole Perché non cancella La memoria Non crea dei servi Però trasforma Le cose in cibo Quindi molto Molto Devastante Abbiamo il frutto Gocia Gocia No Mi Questo frutto È un frutto Mangiato da Neushi Uno dei figli Di Big Mom Uno dei meno conosciuti Tra l'altro Permette all'utilizzatore Di fondere se stesso Con altre persone Viene utilizzato Da questo personaggio Con i suoi fratelli E questo frutto Permette di aumentare La grandezza E anche La forza Dell'utilizzatore Che in realtà Letteralmente Si fonde Con questi personaggi Frutto Secondo me Iper sottovalutato Cioè Dato a Qualsiasi altra persona Che non sia una comparsa Come questo personaggio qua Sarebbe stato Devastante Oshiyoshi No Mi Frutto Mangiato da Morley Frutto Incredibilmente Figo Questo frutto Permette all'utilizzatore Di manipolare Il terreno Come se fosse fatto Di Argilla Questo frutto Tra l'altro È ciò Che Crea Il regno Di Ivankov All'interno Di Impel Down Quindi un frutto Praticamente Leggendario E molto 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 Figo Utilizzato tra l'altro Da un gigante Diventa Devastante Kobukobu No Mi Questo frutto È il frutto Mangiato da Belobetti E permette All'utilizzatore Di aumentare La fiducia Delle persone Nel combattimento E risvegliare Il loro potenziale Latente Questo frutto Secondo me È più potente Di quanto Effettivamente Sappiamo E sicuramente Nelle mani Dell'armata Rivoluzionaria Può essere Molto molto utile Difatti Belobetti Lo utilizza Per infondere Coraggio E forza Nelle persone E spingerle A ribellarsi Kibikibi No Mi Questo frutto È il frutto Mangiato Da Otama Frutto che Permette All'utilizzatore Di utilizzare Dei dango Attraverso La sua guancia Qualsiasi Animale Che mangia Uno di questi Dango Viene Addestrato Diciamo così Da Tama E diventerà Una specie Di servo Suo Oltre agli animali Questo frutto Funziona Anche con Gli smile Per qualche motivo Ma non Con gli zoan Veri e propri Toki Toki no Mi Il frutto Del tempo Permette All'utilizzatore Di mandare Se stesso E altri Avanti Nel tempo Mangiato Da Kozuki Toki Fino alla sua morte Poi non sappiamo Che fine abbia fatto Questo frutto Questo frutto È molto intelligente Perché Le cose che viaggiano Nel tempo All'interno Delle storie Sono veramente Difficili Da Da gestire Oda ha fatto La generata Ha creato un frutto Che semplicemente Va avanti Quindi Non è un frutto Iper versatile Che può far Mandare avanti Indietro le persone Semplicemente Questo frutto Manda avanti Nel tempo L'utilizzatore Juku Juku No Mi Permette all'utilizzatore Di far maturare Qualsiasi Oggetto Viene poi utilizzato Anche con Le persone Difatti il frutto Di shinobu Ed è il frutto Che fa Invecchiare Momonosuke Frutto Frutto secondo me Abbastanza sottovalutato Perché Bisognerebbe Anche capire Quanto L'invecchiamento Può Può essere Portato avanti Ultimo Per amici Che vediamo È il Maki Maki No Mi Questo frutto È stato mangiato Da Raizo E permette All'utilizzatore Di creare Controllare Delle Pergamene Queste pergamene Hanno Delle abilità Speciali Quella sicuramente Più usata Da Raizo È quella Di magazzino Diciamo così Difatti Raizo Grazie alle sue Pergamene Riesce a Rubare Un borobreath Di Kaido E rispedirglielo All'ammittente E allo stesso tempo Riesce a rubare L'acqua Di Zunisha Quando ancora Stava a Zou Per poi Riutilizzarla Durante L'incendio Di Onigashima Abbiamo finito La parte Dei frutti Paramisha Ragazzi Era la parte Più lunga Io calcolate Che sto registrando Tutto di fila Difatti Devo fare una pausa Perché la mia gola Vuole morire Ora Passiamo Alla seconda parte Che sarà Molto molto più corta Ovvero La parte Dei frutti Roja Bene ragazzi Passiamo Ai frutti Roja Come al solito Prima però Dobbiamo dare Una definizione I frutti Roja Permettono agli Utilizzatori Di creare E trasformare Il proprio corpo In elementi Naturali Questi frutti Sono letteralmente Devastanti Soprattutto Pre-time skip Perché questi frutti A meno che Non si abbia Un naki Dell'armatura Non possono Essere Scalfiti In alcun modo Pre-time skip Infatti Chiunque Possedesse Un frutto Roja Contro La nostra Ciurma Era letteralmente Imbattibile I frutti Roja Però Hanno Ognuno Di loro Un punto Debole Esempio Il frutto Di Eneru Che è Un frutto Di Elettricità Spoiler Però Vabbè Lo sapete Tutti Può essere Sconfitto Dalla Gomma Quello Di Crocodile Che Della Sabbia Dall'acqua E così Via Quindi Il pre-time Skip Era gestito In questo Modo Ora I frutti Roja Sono messi Un po' A tacere Grazie All'Aki Ma restano Comunque Dei frutti Veramente Devastanti Sono Molto Molto Pochi In realtà Però Diciamo Che Possiamo Analizzarli Con Semplicità Il primo Che vediamo In assoluto È il Mokumoku Nomi Mangiato Da Smoker Questo frutto Permette Di creare Controllare E trasformarsi In Fumo Frutto Che Appunto Come ho detto Prima Inizialmente Ci viene Mostrato Come Invincibile Smoker Però Verrà messo A tacere Da Luffy Molto Facilmente A Pankhazard Però Inizialmente Questo frutto È veramente Insidioso Verrà fermato Solo Da Dragon A Logtown Il Suna Suna Nomi Questo È uno Dei miei Frutti Lo Già Preferiti Perché Appartiene A uno Dei miei Personaggi Preferiti Ovvero Crocodile E Permette All'utilizzatore Di creare Controllare E trasformarsi In Sabbia Inoltre Un'altra Particolarità Può Deidratare Qualsiasi Sostanza Tocchi Questa Cosa Funziona Anche Con le Persone Vediamo Utilizzare Questa Cosa Anche Per esempio Per Sfondare Una Porta E Come Ho detto Anche All'inizio Questo frutto Può Essere Benissimo Counterato Non solo Dall'Achi Ma anche Con l'utilizzo Dell'acqua Difatti Se Per esempio L'utilizzatore Viene Bagnato Può Essere Colpito Molto Facilmente Il terzo Frutto È Il Mera Mera Non Mi Frutto Che Mi Sta Molto A cuore E Credo Anche A voi In realtà Se Se Seguite Questo Canale Ed il Frutto Mangiato Prima Da Portugese Di Ace E Poi Da Sabo Durante La Saga Di Dressrosa Questo Frutto Permette All'utilizzatore Di Figo Non È Mai Stato Confermato Però Secondo Me Questo Frutto È Debole All'acqua Più Degli Altri Frutti Un Po' Come Il Suna Suna Non Lo So In realtà Viene Sconfitto Dal Frutto Di Akainu Semplicemente Perché Il Magma È Più Caldo Quindi C'è Anche Questa Cosa Tenere In Considerazione Comunque Potete Immaginare Dal Devastante Nico Robin È Uno Dei Pochi Frutti Del Diavolo Che Sono Considerati Quasi Invincibili E Permette All'utilizzatore Di Creare Controllare E Trasformarsi In Fulmini E E Elettricità In Generale Questo Frutto È Devastante Soprattutto Per Un Personaggio Come Eneru Molto Egocentrico E Superbo E Viene Però Disintegrato Letteralmente Da Materiali Come La Gomma E Incontrando Un Personaggio Come Luffy Che È Fatto Di Gomma Questo Frutto Diventa Quasi Obsoleto Hieie Nomi Questo Frutto È Il Frutto Di Kuzan E Permette Di Creare Manipolare Controllare Il Ghiaccio Anche Questo È Un Frutto Devastante Che Appartiene A Uno Degli Ammiragli Uno Degli Ex Ammiragli In Realità E Credo Che Sia La Prima Volta L'ambiente Di Pankhazard Attraverso Il Risveglio Comunque Frutto Veramente Devastante Perché Il Ghiaccio Non Viene Utilizzato Solo Per Congelare Da Kuzan Ma Per Riesce Anche A Creare Delle Armi Con cui Infilza Gli Amiragli Yami Nomi Ovvero Il Frutto Dark Dark Il Frutto Di Marshall Di Teach Permette L'utilizzatore Di Creare Controllare Trasformarsi In Oscurità Questa Oscurità È un Qualcosa Di Molto Strano E Misteriosa A Quanto Pare Questa Oscurità Ha Delle Proprietà Gravitazionali Molto Elevate Difatti Marshall Dice Dice Che L'Oscurità È Gravità E In più Questo Frutto Ha Delle Particolarità Rispetto Agli Altri Frutti Roja Difatti Questo Frutto Può Essere Utilizzato Per Immagazzinare Gli Oggetti All'interno Del Proprio Corpo Ha La Particolarità Più Grande Di Tutti Ovvero Può Annullare Ragazzi Annullare Gli Effetti Dei Frutti Del Diavolo Solo Toccandoli Cosa Veramente De abbastante Soprattutto Pre Time Skip E In più A differenza Degli altri Roja In realtà L'utilizzatore Può Essere Colpito Dai Colpi Difatti Questa Cosa Ha Generato Moltissime Teorie Soprattutto Dopo La Rivelazione Del Frutto Di Nika Io Non Andrò A Fare Teorie Però Quando Andiamo Ad Analizzare Tutti I Frutti In Elenco Soprattutto Per Tipologie Non Possiamo Negare Che Lo Yami Yami Numi Sia Molto Diverso Rispetto Agli Altri Frutti Roja Passiamo Al Pika Pika Numi Uno Dei Frutti Più Sottovalutati In Assoluto Nonostante Sia Comunque Considerato Fortissimo Io Lo Ritengo Sottovalutato Perché E' Il Frutto Che Permette Di Creare Controllare E Trasformarsi In Luce Mangiato Da Kizaru Ragazzi Che Frutto Veramente Veramente Potente Dato Comunque A un Personaggio Molto Pigro Come Appunto Kizaru Che Lo Rende Però Veramente Fortissimo Uno Dei Frutti Roja Preferiti In Rende Rende Veramente Kizaru Un Ammiraglio Temutissimo Magu Magunomi Il Frutto Di Akainu A quanto Pare E' Stato Detto Che Tra Tutti I Frutti Del Diavolo Questo E' Quello Che Ha La Potenza D'attacco Più Forte E' Del Frutto Che Permette Di Creare Controllare E Trasformarsi In Magma Frutto Ragazzi Devastante Veramente Devastante Anche Un Utilizzo Non Devastante Per le Persone Che Si Hanno Intorno E L'ambiente Anche Questo Frutto L'abbiamo Visto Risvegliarsi A Punk Hazard Soprattutto Disintegrando Completamente Metà Dell'isola Appunto Di Punk Hazard Numanuma Nomi Questo Il Frutto Di Caribù Permette Di Creare Controllare Trasformarsi In Fango Questo Frutto Ha Una Particolarità Molto Simile All Allo Yam Yam Nomi Ovvero Permette All'utilizzatore Uno Spazio Quasi Infinito All'interno Del Proprio Corpo Vediamo Infatti Caribù Che Utilizza Questa Cosa Per Catturare Delle Sirene A Fishman Island E Anche Più Recentemente Vediamo Che All'interno Del suo Corpo Aveva Una Grande Riserva Di Cibo Che Poi Verrà Data Luffy Gasu Gasu Nomi Il Frutto Del Gas Permette Di Creare Controllare E Trasformarsi Caesar Clown Utilizzato Tra l'altro Da uno Scienziato Come lui Questo Frutto Diventa Della Stante Nonostante Comunque Io debba Sottolineare Che A Pancazzard Secondo me Non c'è Proprio Sfida Tra Caesar E Luffy Luffy è Veramente Troppo Più Forte Di Questo Personaggio Però Un frutto Molto Molto Figo Yuki Yuki Nomi Il Frutto Della Neve Permette Di Creare Controllare Trasformarsi In Neve Teorie Su Questo Frutto Vere O Meno Che Questo Frutto Si 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 Reincarnato All'interno Della Sanni Anche Qui Come ho Detto Non siamo Qui Per fare Le Teorie Ultimo Frutto Roja E Anche Ultimo Frutto In Generale Che Abbiamo Visto E Il Morimori Nomi Frutto Roja Che Appartiene A Aramaki Ovvero Ryukugyu L'ammiraglio Verde Questo Frutto Permette All' L'Utilizzatore Di Manipolare Creare E Trasformarsi In Piante Il Frutto Della Natura È Un Frutto Molto Carino Da Quello Che Abbiamo Visto Anche Molto 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 Cattivo Perché Con Questo Frutto Ryukugyu Può Addirittura Succhiare Il Sangue Dagli Avversari E Ucciderli Letteralmente E Può Reincarnare Il Rinascere E Salvarsi Questo Frutto Come ho detto L'abbiamo visto Per due capitoli Ed è stato devastante Ha deciso di andarsene Solo esclusivamente Perché ha sentito L'Aki di Shanks Quindi Secondo me Questo frutto Può Farci sognare In futuro E Finisce così L'elenco Dei frutti Rogia Sono 12 Se non erro Non li ho chiontati Esattamente Ma più o meno Siamo lì E Non ho contato Neanche i frutti Paramisha Però Per quanto riguarda I frutti Paramisha Veramente Già solo vedendo Il file È venuto Molto più lungo Quindi i frutti Paramisha Sono molti Di più Rispetto ai frutti Rogia Questo sta a indicare Quanto sono rari Questi tipi di frutti Direi che ora Possiamo passare Alla terza categoria Di frutti Del diavolo La terza categoria Ragazzi Una categoria Molto molto Interessante Semplice Secondo me Non è difficile A spiegare Ed è la categoria Dei frutti Zoan Chiunque mangi Un frutto Zoan Può trasformarsi In una Bestia Particolare In un essere In particolare Questi frutti Sono divisi A loro volta In tre Categorie Diverse Abbiamo i frutti Zoan Standard Abbiamo i frutti Zoan Ancestrali Abbiamo i frutti Zoan Mitologici I frutti Zoan Standard Sono i frutti Zoan Diciamo Più Semplici Quindi Di esseri Viventi Di specie Animali Che effettivamente Conosciamo E appunto Sono in vita Sono esistenti Realmente E attualmente I frutti Zoan Ancestrali Sono frutti Del diavolo Che vanno a riprendere Degli esseri Che Sono completamente Estinti Quindi li abbiamo visti Per lo più Con dinosauri Per esempio O appunto Creature Estinte E la terza categoria Che sono i frutti Mitologici È la categoria Più Più interessante In assoluto Ed è soprattutto La categoria Definita più rara In assoluto Ed è una categoria Di frutti Zoan Che permette All'utilizzatore Di trasformarsi In un essere Mitologico In modo Molto Molto Generale Come potete immaginare Sono Sono i più devastanti In assoluto E tutti i frutti Zoan Hanno una particolità O meglio Quasi tutti Hanno tre forme Diverse Ovvero La forma Umana Quindi la forma Base dell'utilizzatore La forma Ibrida In cui Si mischiano Le caratteristiche Dell'utilizzatore E Dell'essere In questione E poi La forma Bestia Completa In cui L'utilizzatore È trasformato Completamente Nell'animale Nella bestia Di cui Appartiene Appunto Il frutto Non abbiamo visto Però la forma Ibrida Di tutti Per esempio Personaggi come Marco Non hanno una vera e propria Forma ibrida Semplicemente Trasformano Alcune parti Del loro corpo Nell'animale In questione Lasciando però Alcune parti Umane Quella potrebbe essere Considerata appunto Una forma ibrida Comunque Anche se Anche se in Goku Per esempio Non abbiamo mai visto Una forma ibrida Ma anche Orochi Eccetera In più Queste forme Sono anche molto Versatili Se si vanno a utilizzare Delle sostanze Difatti Questa cosa La sappiamo Sin da principio Con Tony Tony Chopper Che ha creato Delle medicine Chiamate Rumble Ball Per avere Più Forme Possibili Che vanno A potenziare Alcuni aspetti Del suo corpo In più Questa cosa È stata rivista Anche A Onigashima E lo sappiamo Grazie all'SBS Che la forma Che vediamo Di Black Maria Non è la sua Vera forma ibrida Perché la vera forma Ibrida Di Black Maria È molto diversa Quella forma L'assume Grazie a Delle sostanze Comunque Bando alle ciance Direi che possiamo Passare ad analizzare I frutti Del diavolo Di tipo Zoan E partiamo Con la categoria Standard Il primissimo Frutto del diavolo Di tipo Zoan Che vediamo È Lushirushi No Mi Modello Bisonte Questo frutto È stato mangiato Da Dal toned Un frutto Zoan Che appunto Permette all'utilizzatore Di trasformarsi In un bisonte Ovviamente Essendo il primo Che abbiamo visto Ricordo che è molto Molto figo Perché effettivamente Tu per la prima volta Vedi un essere umano Che si trasforma In animale Però comunque Poi vedremo dei frutti Molto 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 più fighi Il secondo È il frutto Ito Ito No Mi Mangiato da Il nostro Tony Tony Chopper Ed è il frutto Che permette All'utilizzatore Di trasformarsi In un essere Umano Per fortuna Questo frutto È stato mangiato Letteralmente Da Una renna Quindi diciamo Che è un nato Sprecato Perché secondo me Se questo frutto Fosse stato mangiato Da un altro essere umano Sarebbe stato un po' Un casino Comunque Semplicemente Questo frutto Permette all'utilizzatore Come ho detto Di trasformarsi In un essere umano Il nostro Chopper Lo vediamo Quasi sempre Nella sua Forma ibrida Abbiamo il Tori Tori No Mi Modello Falco Frutto Mangiato Da Pell Questo frutto È molto figo Del primissimo frutto Di tipo Zoan Che permette All'utilizzatore Di Volare Soprattutto Nella sua forma ibrida È molto figo In più Pell Comunque È un personaggio Figo C'è da dire E l'abbiamo visto Appunto Ad Alabasta Proprio ad Alabasta Ne vedremo Diversi Per esempio Lassu Che è oltre a essere Un frutto del diavolo È anche la prima volta Che vediamo Il frutto del diavolo All'interno Di un oggetto Difatti Questo frutto del diavolo È il frutto del diavolo Inu Inu No Mi Modello Dacshund Ed è letteralmente Un fucile Che ha mangiato Un frutto del diavolo Di tipo Zoan Questa è una cosa Che non ho detto Effettivamente Ma gli oggetti Possono mangiare Solo i frutti Del diavolo Di tipo Zoan E questa è la prima volta Che vediamo Una cosa del genere Altro frutto del diavolo Che vediamo Ad alla basta È il frutto del diavolo Chiamato Mogu Mogu No Mi Ed è il frutto del diavolo Che permette All'utilizzatore Di trasformarsi In una talpa Visto per la prima volta Da Miss Merry Christmas Appunto Ad alla basta Ovviamente Le sue particolarità Sono quelle Dello scavare Perché non potrebbe Essere altrimenti Abbiamo L'Inu Inu No Mi Modello Jackal Questo è Il frutto del diavolo Di Chaka Permette all'utilizzatore Di trasformarsi In uno Sciacallo Uno dei personaggi Più fighi Secondo me Di la basta Un po' Dimenticato Anche lui E mi piace molto Questo frutto del diavolo Va a riprendere un po' La mitologia egizia E appunto Permette di trasformare L'utilizzatore In uno sciacallo Abbiamo L'Uma Uma No Mi Mangiato Da Pierre Pierre è un volatile Che appartiene a Gunfall Un personaggio che abbiamo conosciuto A Skypiea E questo frutto Permette all'utilizzatore Di trasformarsi In un cavallo Ovviamente Sendo che questo frutto È stato mangiato Da un uccello Letteralmente Permette di trasformarlo In una specie Di Pegaso Qui abbiamo Il Neko Neko No Mi Modello Leopardo Questo frutto del diavolo Ragazzi appartiene A Rob Lucci È il primo frutto Del diavolo Che analizziamo Di un membro Della CP9 Frutto devastante E essendo un leopardo Permette all'utilizzatore Di essere Incredibilmente Veloce Essendo poi Il frutto Di un carnivoro Come potete immaginare Lo rende Devastante Ma in questo caso Comunque Anche l'utilizzatore Senza frutto del diavolo È veramente Veramente Fortissimo Abbiamo poi Lo Zou Zou No Mi Che è il frutto Che permette all'utilizzatore Di trasformarsi In un elefante Frutto che sarebbe Devastante Ed è un frutto Anche questo Che appartiene A letteralmente Un oggetto Ovvero Una spada Ed è la spada Di Spandami Infatti sto parlando Di Funk Frid La spada di Spandami Che può trasformarsi Appunto In un elefante Abbiamo L'Inu Inu No Mi Modello Lupo Questo frutto Ragazzi Appartiene A Jabra Ed è il frutto Che come potete Immaginare Permette all'utilizzatore Di trasformarsi In un lupo Anche questo è devastante Poi appartiene A un membro Della CP9 Molto molto forte Ed è anche uno dei più fighi Esteticamente da vedere Secondo me Abbiamo L'USHUSHYUSHINOMI Up L'USHYUSHINOMI seperti di доп foganie Il frutto Come tutti sapete Che appartiene A KAKU Questo frutto È molto forte Nonostante comunque Di solito Gli animali Carnivori Sono un po' più forti Quando si parla Di frutti Del diavolo Però in questo caso Stiamo parlando Di un animale Molto molto imponente Che Davvero Da Una grossissima mano a livello offensivo a un membro della cp9 abbiamo il frutto ebiebinomi modello king cobra frutto che appartiene a boa marigold una delle sorelle di bohancock ed è un frutto che appunto permette all'utilizzatore di trasformarsi in questo tipo di serpente è molto molto simile abbiamo il frutto del diavolo ebiebinomi modello anaconda anche in questo caso mangiato da una delle sorelle di bohancock ovvero boa sandersonia ed è un frutto che permette di trasformarsi in un'anaconda in entrambi i casi sono dei serpenti solo che sono due tipi diversi di serpenti quindi abbiamo due frutti del diavolo diversi qui ragazzi abbiamo una piccola sezione in cui inserirò questi personaggi anche se non abbiamo la conferma dei loro nomi però sono sicuramente dei frutti zona semplicemente perché letteralmente c'è stato detto che lo sono e sto parlando di dei personaggi mino taurus mino koala mino rinocerons mino zebra e mino chihuahua che sono i guardiani demoniaci di impel down questi personaggi hanno tutti un frutto del diavolo zoan risvegliato ma non sappiamo i loro nomi quindi li ho messi tutti insieme diciamo così per abbreviare la cosa molto probabilmente però sono il frutto del toro del koala del rinoceronte della zebra del chihuahua semplicemente non c'è stato confermato un altro frutto del diavolo che sicuramente è un frutto zoan ma che non abbiamo il nome il frutto di onigumo frutto che permette l'utilizzatore che ovvero questo maris di trasformarsi in una specie di ragno sappiamo però con black maria che in realtà ogni tipo di frutto del diavolo che trasforma in ragno è diverso in base alla specie del ragno qua non c'è mai stata specificata quindi questo frutto di fatto è un frutto senza nome ma non l'ho messo nella lista degli sconosciuti perché comunque è sicuramente un frutto zoan qua abbiamo altri due personaggi di cui effettivamente non abbiamo il nome specifico di questo del frutto del diavolo che sono dal massian vero un uno dei membri della marina anche questo ha un frutto del diavolo molto probabilmente che si ma inuinunomi modello dalmata non ci è stato confermato però è praticamente sicuro perché permette perché questo marines riesce a trasformarsi in un cane più precisamente tra l'altro in un dalmata e poi abbiamo il frutto di epoida anche qui è un frutto senza nome ma che permette all'utilizzatore di trasformarsi in un bruco un po inutile secondo me però vabbè epoida è un personaggio che abbiamo visto pochissimo perché è uno dei tantissimi membri della ciurma di barba bianca per per farvi capire abbiamo qui il frutto kamekame nomi che appartiene a pecoms questo frutto permette all'utilizzatore di trasformarsi in una tartaruga pecoms utilizza questo frutto un po in maniera noiosa secondo me perché non abbiamo mai visto una forma ibrida di leone slash tartaruga sarebbe stato figo in realtà l'abbiamo visto molto semplicemente per umiliare caribù comunque esiste questo frutto abbiamo il tamata manomi un frutto incredibilmente particolare che però è ufficialmente un frutto zoan anche se non l'avrei messo dai frutti zona ma più paramisha e è il frutto di tamango questo frutto permette l'utilizzatore di avere tre forme la forma baron tamango che è la sua forma base la forma visconte hiyoko che in cui sembra praticamente un pulcino e la forma conte niwatori dove sembra un gallo da quello che tra l'altro si è capito diventa sempre più forte ogni volta che si rigenera questo un frutto effettivamente molto particolare ma veramente tanto particolare però è un è un frutto zoan di fatto quindi ce lo teniamo così abbiamo il sarasara nomi modello axolotl questo frutto è stato mangiato tra virgolette da smiley smiley è stato in realtà creato per 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 contenere la sostanza velenosa h2s e anche qui è praticamente ha utilizzato il metodo che utilizza vegapunk per inserire i frutti del diavolo all'interno degli oggetti per creare questo essere in mondo gigantesco tra l'altro smiley è morto e il frutto non l'abbiamo mai più visto però anche qui esiste questo frutto abbiamo il frutto musci musci nomi modello kabutomushi questo frutto è stato mangiato da un tontatta ovvero kabu e permette all'utilizzatore di trasformarsi in un coleottero rinoceronte cosa molto particolare perché effettivamente i tonata sono minuscoli e ha mangiato il frutto di un insetto abbiamo un altro musci musci nomi modello stavolta suzume baci ovvero il frutto del calabrone anche qui permette all'utilizzatore di trasformarsi in un calabrone questo frutto è stato mangiato anche qui da un altro tontatta ovvero bayan anche qui frutto carino questo gioco di trasformare i tontatta insetti abbastanza simpatico abbiamo il tori torino mi modello albatross questo frutto è stato mangiato da morgan's il capo delle notizie di tutto il mondo di one piece particolarità non tanto del frutto ma dell'utilizzatore viene sempre visto nella sua forma iubile un po come chopper in realtà questo probabilmente perché morgan's non vuole rivelare la sua vera forma umana alle persone rimanere anonimo abbiamo il frutto in un nomi modello tanuki questo frutto appartiene a bambucu e in realtà è semplicemente una teiera che ha un frutto del diavolo anche qui un'altra del un altro oggetto inanimato che è un frutto del diavolo e lo vediamo in realtà a guano molto 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 brevemente quindi abbiamo finito il modello standard che ovviamente è il modello un po più popolato diciamo così dei frutti zoan passiamo a i frutti zoan di tipo ancestrale una particolarità di questa tipologia di frutti che non ha nessun'altra tipologia è che in questa categoria i utilizzatori hanno fanno tutti parte dello stesso gruppo fanno tutti parte della ciurma di kaido e in particolare sono tutti i membri dei tobi roppo e i membri delle calamità abbiamo il riu riu nomi modello allosauro mangiato da x drake frutto che permette all'utilizzatore di trasformarsi in un allosauro veramente devastante tutti pensavano fosse un t-rex la prima volta che è stato visto in realtà no oda ha scelto di utilizzare allosauro e mai utilizzare il t-rex per qualche motivo magari questo dinosauro molto molto famoso è quasi epico lo vedremo in qualche altra occasione abbiamo il riu riu nomi modello spinosauro un frutto molto simile comunque a quello di x drake parlandoci chiaramente e appartiene a page one un altro membro di tobi roppo abbiamo il riu riu nomi modello pteranodonte mangiato da king questo frutto devastante perché se non erro è l'unico frutto di tipo ancestrale che permette anche di volare quindi poi diciamo che comunque l'utilizzatore in questione ovvero king è il più forte della surma di kaido dopo appunto l'imperatore quindi come potete immaginare questo frutto comunque da una grossa mano alla calamità l'altro frutto della calamità più importante oltre a king è il riu riu nomi modello brachiosauro mangiato appunto da queen questo frutto è sicuramente il più imponente di questi di questo elenco perché il brachiosauro effettivamente è imponente e ovviamente come potete immaginare queen utili gioca molto con il collo di questo di questo di questo animale di questo essere ormai estinto abbiamo il riu riu nomi modello pachicefalosaurus di ulti la particolarità di questo dinosauro è sicuramente questa specie di armatura che aveva sulla testa e difatti una delle particolarità di ulti soprattutto nel combattimento e di utilizzare appunto la testa in modo devastante abbiamo poi il riu riu nomi modello triceratopo mangiato da sasaki anche questo è un frutto incredibilmente imponente e incredibilmente forte per un tobi roppo che è stato comunque sconfitto dal nostro caro frankie e poi abbiamo lo zou zou nomi modello mammut mangiato da jack ovviamente il frutto che permette all'utilizzatore di trasformarsi in un mammut abbiamo anche la forma ibrida di questo frutto però io ho la netta sensazione che sia un po come la forma ibrida di black maria ovvero una forma ibrida generata da una sostanza perché è un po strana questa forma ibrida è tipo un centauro jack comunque anche questo frutto molto figo è devastante abbiamo il kumo kumo nomi modello rosa migale grauvo geli ciò ho fatto almeno tre tentativi per dirla forse correttamente del frutto mangiato da black maria frutto che permette all'utilizzatrice di trasformarsi in un antico ragno e poi l'ultimo è il neko neko nomi modello tigre dai denti a sciavola mangiato da usù è probabilmente il preferito di tantissimi di voi forse anche il mio preferito perché comunque a tigre dai denti a sciavola ha il suo fascino in più data comunque a un ex membro da cp9 quindi andiamo a citare rob lucci secondo me è veramente 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 una figata ora ragazzi abbiamo la categoria più rara in assoluto marine ford viene detto che questa categoria di frutti è la categoria più straordinaria e questi frutti sono più rari addirittura dei frutti roger sto parlando della categoria degli zoan mitologici questa categoria è molto molto breve in realtà però sicuramente è la più interessante e partiamo con il primo frutto zoan mitologico che abbiamo mai visto all'interno della serie che ragazzi lito ito nomi modello mica dopo la rivelazione del capitolo 1044 luffy è un utilizzatore di frutto del diavolo di tipo mitologico questo frutto permette l'utilizzatore di trasformarsi in questo dio nica dio misterioso che ha le proprietà della gomma e porta il sorriso ovunque vada nica è ancora molto misterioso anche a noi lettori nonostante sia letteralmente il frutto del protagonista però ci limitiamo a dire quello che sappiamo ha le proprietà della gomma e il suo sveglio letteralmente gli dà la libertà di fare quello che vuole abbiamo il torino mi modello fenice mangiato da marco che fino a poco tempo fa era veramente il primo frutto zoan mitologico che abbiamo visto e permette all'utilizzatore di trasformarsi in una fenice tra l'altro le fiamme di marco sono fiamme particolari perché sono fiamme che possono curare non solo l'utilizzatore stesso ma anche le persone che intorno frutto devastante uno dei miei frutti preferiti in assoluto e sono sicuro uno dei frutti preferiti anche di voi che state guardando abbiamo il lito ito no mi modello da ibutsu mangiato da sengoku che permette all'utilizzatore di trasformarsi in un buddha dorato questo frutto è detta così sembra molto generico in realtà è un frutto devastante perché appartiene a sengoku che è letteralmente una leggenda della marina insieme a garp e non abbiamo visto molto in realtà di questo frutto semplicemente utilizza molto le onde d'urto attraverso le mani ma ripeto non abbiamo visto molto abbiamo l'uo uo no mi modello serio mangiato da kaido questo frutto ragazzi è devastante la retta di kaido è la creatura più forte della terra kaido è di già di suo una creatura fortissima ma con questo frutto veramente assume una potenza assurda questo frutto ha un sacco di altre abilità oltre alla trasformazione vediamo le lame d'aria vediamo la generazione di tornadi a generazione di nuvole di tempeste il boro breath abbiamo veramente tantissime cose in più può volare può fare tantissimissime cose abbiamo poi l'inuinu no mi modello kyubu no kitsune frutto mangiato da katerina devon ed il frutto appunto della kitsune è un no yokai ovvero la volpe a nove code che tutti conosciamo e diciamo che la particolarità di questo frutto l'abilità speciale in più che ha questo frutto è che katerina devon può trasformarsi in qualsiasi altra persona un po come il frutto di mr q però potenziato in più credo che questo potere avrà anche altre funzionalità nascoste ebi ebi no mi modello yamata norochi questo è il frutto ragazzi di kurozumi orochi un frutto molto figo permette l'utilizzatore di trasformarsi in uno yamata norochi che questa creatura mitologica ha otto teste e una particolarità che abbiamo visto di questo frutto è che devi per forza uccidere tutte le teste dell'utilizzatore se tagli l'unico una sola testa l'utilizzatore tornerà in vita con altre sette e così via abbiamo poi l'ito ito no mi modello o nudo mangiato da onimaru una volpe e lo nudo in realtà è una cosa è anche lui uno yokai e è un è un demone che appare spesso come un monaco gigante che è quello che poi vediamo tra l'altro in one piece abbiamo poi l'inu in uno mi modello okuchi no makami mangiato da yamato l'ultimo frutto del diavolo mitologico che abbiamo visto ed è un essere molto particolare che io personalmente non ho mai sentito prima prima di leggerlo effettivamente nel capitolo ed è la creatura protettrice di wano questo frutto è molto figo è una specie di lupo ha dei poteri a quanto pare legati al freddo ma secondo me tutta la forza di questo frutto ancora dobbiamo vederla per adesso abbiamo visto solo la punta dell'iceberg e ragazzi questo è l'ultimo frutto che abbiamo visto in assoluto ora passiamo velocemente ai frutti sconosciuti che sono in realtà dei frutti che non che non sapevo effettivamente dove collocarli abbiamo per esempio i frutti di boni e uroge non ostentate effettivamente sappiamo cosa cosa fanno questi frutti li ho voluti mettere qua perché potrebbero benissimo essere per esempio delle creature mitologiche che noi non conosciamo roba all'anica no quindi li ho voluti mettere qui quello di boni può far invecchiare e ringiovanire le persone a suo anche la stessa utilizzatrice quello di uroge invece è un po particolare di fatti riesce ad assorbire i colpi e diventare sempre più forte abbiamo poi anche il frutto di la fit che molto molto probabilmente un frutto zone ma comunque ho voluto metterla metterlo qui di fatti la fit l'unica cosa che vediamo sono delle ali quindi si è uno zone ma non sapevo in che categoria zone metterlo quindi ho deciso di metterla in questa categoria un po più generale abbiamo il frutto di sun one wolf anche questo probabilmente è un frutto paramisha permette all'utilizzatore di aumentare le proprie dimensioni però anche qui non abbiamo il nome e non abbiamo le specifiche vere e proprie abbiamo poi l'arma di racuio racuio è uno dei membri dei pirati di barba bianca a quest'arma che è una specie di catena che termina con una palla chiudata e questa palla chiudata sembra effettivamente in vita quindi probabilmente è un oggetto col frutto del diavolo ma non abbiamo idea di cosa sia non c'è mai stato detto e probabilmente oda mai ce lo dirà quindi rimane così semplicemente l'arma ha molto probabilmente un frutto del diavolo un frutto misterioso è il frutto di karasu che a quanto pare permette l'utilizzatore di trasformarsi in un in uno stormo di corvi ragazzi è una cosa stranissima perché non è né uno zone né un roja è un mix tra entrambe le cose è veramente difficile da decifrare comunque probabilmente sarà un paramisha così oda avrà avrà risolto questa questione e infine abbiamo il frutto di dragon io do quasi per scontato che dragon abbia un frutto lo vediamo sempre ragazzi questa tempesta che appare quando appare anche il capo dei rivoluzionari quindi ha un frutto però non sappiamo se sarà un roja non sappiamo sarà un uno zone potrebbe essere benissimo un zone mitologico oppure è semplicemente un paramisha e che dire ragazzi i frutti sono finiti io non ho più voce perché ho registrato tutto questo di fila quindi merito merito un like ragazzi dai questo like me lo do anche da solo perché veramente è stato faticoso però secondo me è un video carino è anche utile diciamo per fare un recap che dire ragazzi grazie mille per aver visto questo video l'ennesimo video lunghissimo di questo canale ma so che mi volete bene lo stesso anche per questo tipo di video ragazzi grazie mille per aver visto tutto per aver visto una parte per essere arrivati fino qui scrivetemi nei commenti quali altri video vorreste vedere all'interno di questo canale e niente io sono marra e questo è mera mera ci vediamo ciao a tutti